Sindaco, dopo tanti anni riapre un asilo nido a Chieti Alta. Cosa rappresenta questo evento per tutta la cittadinanza? Allora, rappresenta innanzitutto un programma di grossa utilità per la cittadinanza che da anni ha sofferto la mancanza appunto di un asilo, soprattutto nella parte alta della città. Segna anche un importante obiettivo traguardo della mia amministrazione che certamente non si fermerà qui perché apriremo altri asili intercettando sempre fondi o ministeriali del PNRR oppure anche europei. Ospiterà 35 bambini. È un numero che può essere destinato a crescere? Attualmente no. Non può crescere sia per quanto riguarda i locali ma anche e soprattutto per il materiale umano rappresentato dalle educatrici che la legge vuole sia commisurata con il numero degli utenti e in questo caso dei bambini. Posso dire sinceramente che questa giornata, questa apertura di questa nuova realtà certamente ci danno una grande speranza perché la ripresa degli aspetti di socialità nei bambini sarà sicuramente un elemento estremamente importante per la loro crescita futura. Quindi ci auguriamo di poter proseguire così con l'apertura anche di nuovi centri, nuovi asili, di nuove strutture, di nuove realtà che possano mettere effettivamente i bambini in una condizione di vivere una dimensione di socialità al di fuori dell'ambito familiare.